Buongiorno a tutti ragazzi, qui Arduino Schenato da Yardforex.com e in questo video vorrei fare il punto a livello tecnico del grafico dell'S&P 500 e quindi del mercato azionale americano. Cosa ci sta dicendo, soprattutto per le prossime settimane, massimo un paio di mesi, quindi diciamo nel breve termine, perché in effetti tutto quello che ci sta dicendo da un po' è sicuramente una view long. Però vorrei che andassimo a vedere direttamente dal grafico e quindi prendo direttamente il grafico a tutta pagina e andiamo a vedere un attimo che cosa possiamo trovare di informativo da questo mercato. Allora, S&P 500 che è ovviamente l'S&P, uno dei mercati, degli indici principali americani, io ho sempre definito il benchmark per il mercato americano, anche se sappiamo che negli ultimi periodi è molto pesato dal comparto tecnologico, però rimane sempre l'S&P 500 e quindi rimane sempre il mercato di riferimento. A questo punto diciamo che da un punto di vista macro, diciamo, ovviamente quello che si vede dai grafici in questo momento è perfettamente in linea con quello che probabilmente potremo vedere anche nel prossimo futuro. Quindi diciamo che tutte le manovre espansive della Fed potrebbero comportare un ulteriore rialzo, visto che il sistema è immerso in liquidità e questo diciamo che non fa altro che creare una continuazione, diciamo, dei possibili rialzi. Ma vediamo se realmente poi il prezzo ci dice un po' la stessa cosa. Allora io come vedete ho un grafico settimanale, sapete che tendenzialmente quando cerco di fare delle analisi per avere la visione, per poi operare sui mercati, cerco sempre di andare su time frame alti, questo è quello che vi consiglio, settimanale, mensile, cercate di capire la view macro, perché la view macro è il senso della big picture, della grande fotografia del mercato, ci permette di trovare i livelli più importanti, ci permette di capire che volatilità c'è, che tipo di tendenze ci sono, se possiamo essere di fronte magari a un momento dove si possono presentare per esempio dei pullback importanti o meno e quindi avere la view chiara e quindi quando si opera avere una certa sicurezza. Allora, settimanale che noterete dopo il movimento forte che è durato praticamente un mese di febbraio-marzo scorso, c'è stato questo grande rialzo praticamente tutto l'anno, chiudiamo infatti con un SP500 su massimi storici, comunque se non sarà qui e sarà anche un po' più basso, ma non cambia nulla, stiamo sempre praticamente nei pressi dei massimi storici, in questo momento esatto stiamo battendo quasi i 3.700, 3.695, quindi potete ben capire che questo è un mercato che se guardiamo insomma in modo molto anche semplicistico è un mercato in trend, in trend long, dove a ogni minimo pullback, quindi ritracciamento dei prezzi, ci sono degli acquisti forti che arrivano. Il mensile ovviamente che è un settimanale, ovviamente con meno candele, quindi che ricopre più candele con unica candela, vedete che ci mostra quel ribasso molto importante, ma arrivavamo anche prima da una classica tendenza con un periodo dove c'è stata una, diciamo, una lateralità, ma ancora, diciamo, continuazione di fondo e rialzo assolutamente pieno. Tra l'altro, quest'anno devo dire che è molto interessante la cosa perché c'è stata questa falsa rottura di questi minimi e di questa base, diciamo, no? Quindi in questo grande movimento verticale al ribasso di volatilità c'era creato questo minimo che aveva rotto i minimi precedenti. Era già successo, come potete notare, senza quella forza così, no? Di rialzo c'era stato comunque, vedete qui, una rottura che aveva portato il prezzo al rialzo anche per parecchi mesi. Stessa cosa è successa qui, quindi questa falsa rottura, vedete, ha portato i prezzi come era successo qui a fare nuovi massimi e come è successo qui con nuovi massimi, facendo un'ulteriore gamba che sembra praticamente appena partita, no? Cioè, il fatto che ci possa essere un'ulteriore continuazione di tendenza quest'anno, almeno nei prossimi tempi, ecco, non voglio dare un mese di riferimento, ma nelle prossime settimane, sapete, sono sempre analisi di trading e quindi di breve termine, diciamo che la view continua ad essere esclusivamente long. Andiamo a vedere poi le ultime situazioni, gli ultimi mesi, cioè dopo quando è iniziato il movimento rialzista c'è stato anche un pullback che è, vedete, con queste due barre, quindi un pullback lieve per carità, però il mercato ha un po' ossigenato e poi nel mese di novembre, mese tra l'altro importante per la nomina di Joe Biden, quindi le elezioni americane dopo quattro anni, ha confermato la forza di questo mercato, sezione americano. Quindi quello che ci si aspetta è una continuazione di tendenze, almeno nel breve, nel prossimo futuro. Questo però non significa che non ci possano essere dei ritracciamenti. Diciamo che la zona 3200 punti di S&P 500 è la zona un pochino di confine per evitare che questo indice possa avere, diciamo, una depressione, quindi un ribasso dei prezzi invece più ampio. Quindi direi che fin tanto che l'S&P 500 quota in chiusura settimanale sopra i 3200 punti, stiamo tranquilli. Ecco che, a mio avviso, ci possono essere, ecco, andiamo a prendere anche i ritracciamenti di questa leg che è importante perché crea uno dei miei trigger, FTV Power. Eccolo qui, vedete che c'è una confluenza nella pullback zone, nella zona di pullback, che è questa zona qui. Eccola qua. La zona, diciamo, che passa tra i 3.500 e i 3.90, 3.004. Diciamo, in questi 100 punti, tra 3.500 e 3.004, questa, diciamo, che si può definire, nel caso in cui l'S&P dovesse avere un ribasso, perché adesso è stato breccato il massimo del mese scorso, quindi è stato triggerato il mio input long, però potrebbe anche succedere che il mercato abbia un collasso maggiore per qualsiasi cosa, diciamo, non è questo l'importante, ma potrebbe essere che ci sia un ribasso. Ecco che, se dovesse avvenire un ribasso, in ottica operativa, per me, sarà molto importante capire cosa avviene nella pullback zone. Quindi, nella zona dove è più naturale un pullback, anche zone, in effetti, di miei livelli di prezzo. Quindi, tutta quest'area qui, che vedete qua, boom, è un'area assolutamente interessante, nel caso in cui l'S&P, invece di rimanere sopra i 3.600, cosa anche molto fattibile, però, se dovesse scivolare giù, questo non significherebbe, dal mio punto di vista, di mettersi short, assolutamente no, ma anzi, sarebbe un modo per riuscire a comprare S&P 500 a un livello migliore, se, ovviamente, avrò le conferme di prezzo, e qui lo sottolineo, su grafici settimanali. Detto questo, però, se invece dovesse avvenire una continuazione di tendenza, o comunque, anche se dovesse prima andare verso queste aree, quindi tra 3.500 e 3.400, dove possiamo andare a prendere i primi livelli di prezzo importante dell'S&P 500, visto che siamo su livelli mai visti. Andiamo a prenderci un po' di estensione di volatilità, sia del primo swing importante che ha iniziato il movimento long, eccolo qui, prendiamo tutta questa leg, perfetto, e poi prendiamo anche questa leg qui, cioè quella del nostro segnale, ok? Quindi facciamo così, adesso lo coloreremo di maniera diversa, così non creiamo confusione a voi e neanche a me. Ok, azzurro. Quindi, ci sono queste due situazioni, ok, eccole qui, andiamo a vedere un attimo il settimanale, così capiamo meglio. Vedete che in questo momento siamo bloccati dal livello T3, 161,8, livello importante del minimo di swing mensile, quello importante, no? Quello che arrivava a marzo, e quindi questo livello dove lui si è fermato era naturale, era classicamente possibile che lui qui si fermasse un po'. Si sta fermando, poi vedremo un po', ripeto, nei prossimi giorni, io sicuramente qui non cercherei di comprare, almeno al momento, ma la cosa, ripeto, interessante potrebbe essere quella di, già con questo, trovare nel grafico giornaliero, nelle prossime settimane, degli input long, per esempio. Gli input long che possono arrivare già sopra i 3.600, 3.650, ma anche su pullback, come dicevo prima, più profondi, ok? Dove possiamo andare a vedere i prossimi scalini del prezzo? Dove lui potrebbe andare a fermarsi? Eccoli qua, ci sono i livelli blu che sono un po' più di breve termine, e i livelli rossi un po' più di medio termine. Diciamo che, senza andare troppo lontano, perché altrimenti diventiamo dopo dei, eh, dei, come si dice, non più dei trader, ma coloro che vogliono fare previsioni, e che non mi piace, perché il training non è questo, ma è cercare di rispettare un certo piano, una certa view. Vediamo che abbiamo un livello importantissimo, tra l'altro combacia perfettamente T4, quindi 218, eccolo qua, 4194, 4207, quindi 4200, sono sicuramente il prossimo livello di arrivo dei prezzi, nel caso in cui ci sia appunto questa continuazione di trend che io mi aspetto. Questo ovviamente, siamo su un settimanale, cioè, non è da oggi a domani che questo può arrivare, per carità, può succedere un'accelerazione, ma, insomma, l'S&P 500, tra l'altro, con la volatilità che ha, non credo possa essere velocissimo nei 4,2. Però diciamo che quello là è il livello più importante di arrivo, eh, almeno nelle prossime settimane, tra un, nei prossimi mesi. Eh, poi c'è l'altro livello importante, che diciamo è nei prezzi dei 4.000, esattamente qui, diciamo che il livello naturale dell'estensione settimanale, appunto, della ultima, FTV che si è venuta a creare, è proprio quello lì, cioè la zona, vedete, 3.962. Quindi sicuramente, eh, una situazione assolutamente interessante. Vorrei vedere una cosa, però, perché... No. Sì, sì, è vero, assolutamente, scusate. Perché era quella del mensile. Eccola qua. Questa qui, quella del mensile. Allora, visto che ci siamo qui, guardiamo anche che l'ultima, eh, situazione, cioè l'FTV che si è venuta a creare qui, vediamo che tipo di... Eccolo qua. Che tipo di confluenza ci dà? Questa la coloriamo di giallo, così non vi creo confusione. Ci siamo, perfetto. E sempre sul settimanale andiamo a vedere se c'è confluenza. Sì, vedete che praticamente la zona, la zona importante di cui parlavo prima, quindi la zona 4.2 è una zona sicuramente importante dove confluiscono un mare di livelli, quindi 4.2. Adesso io qui me lo segno anche per me, ovviamente, perché quest'analisi la faccio per voi, ma la faccio anche per me. Quindi 4.2, zona assolutamente chiave. E nel breve la zona, guardate, 161, 261.8, questa è la zona tra 1.960 e 4.000 che risegno anche qui, sono le due zone prossime di possibile arrivo naturale dei prezzi dell'S&P. Ok? Quindi vado e tolgo via un po' di confusione e qua, voilà, il gioco è fatto. Ok? Quindi abbiamo un S&P 500 per concludere, long, bullish, abbiamo la possibilità di avere degli ottimi livelli anche qui sotto di acquisto nel caso in cui settimanale e daily confermeranno della price action long, nel caso in cui si continui comunque, ci potrà dare comunque magari degli altri input, ovviamente sugli swing meglio, tipo quello che potrebbe anche essere stato creato proprio in questo momento, cioè in questa settimana, vedremo, e le prossime aree di presa di profitto o dove ci potrebbe essere un mini stop dei prezzi e uno swing, è la zona, diciamo, livello tondo 4.000 e livello tondo 4.2 di Standard & Poor's 500, quindi il nostro mercato americano di riferimento. Bene, io direi che per oggi è tutto, credo che anche per questa settimana abbiamo detto un po' di cose, io vi auguro quindi una buona continuazione, ci vediamo direttamente nei prossimi video, un saluto a tutti, ciao!